io sto lavorando sulla storia segreta di roma città aperta perché non mi sono mai accontentato di quello che ho letto ma non sul valore artistico del film allora precisazione importante oggi quando si parla fino agli anni 2010 insomma tutti i libri di cinema sostanzialmente hanno sempre riguardato l'analisi artistica del valore del film o della carriera del regista con l'esplosione degli archivi degli ultimi vent'anni la digitalizzazione di tante fonti che ti permettono di incrociarle tu hai un quadro se non esaustivo ma quasi di un film di un qualsiasi prodotto culturale quindi gli storici e critici del cinema che ancora non sono abituati a questo approccio secondo me non fanno un buon servizio e quindi se tu parli ancora oggi di Vittorio De Siga di Luchino Visconti di Michelangelo Antonioni di Roberto Rossellini dovresti quantomeno avere l'umiltà di andarti a prendere tutta una serie di documenti mai consultati che incrociano vari ambiti e se tu parli di Roberto Rossellini proprio non puoi assolutamente trascurare il fatto che lui abbia fatto tre film di propaganda fascista per poi diventare il padre del neorealismo italiano e capire ma non perché ha cambiato casacca quindi il solito trasformista eccetera no capire come questo è successo e quali sono stati gli interessi in ballo perché Roma città aperta viene scritto nell'autunno del 44 a guerra ancora in corso viene girato dal gennaio del 45 a guerra ancora in corso non si poteva muovere una foglia senza l'autorizzazione degli americani perché fu scelto Rossellini non fu posso anticipare questo che tutta la vulgata sul film girato con la pellicola scaduta tutto avventuroso è tutta una balla fu un'operazione di propaganda voluta dagli americani da la la z in chiave cattolica per dare una risposta al mondo sul fatto che l'italia avesse lottato contro i nazifascisti ma in chiave cattolica un certo comunista e questo è un dato di fatto io vi dico questo sulla base di documenti declassificati di almeno una decina di agenti dell'intelligence dell'OSS l'antenata della cia che lavoravano la propaganda psicologica quindi no arriviamo scusate adesso ripassiamo ritorniamo agli anni 70 dove la faccio breve lì c'è l'esplosione totale c'è appunto il sesso ovunque ultimo tango a parigi viene però sequestrato bernardo bertolucci è costretto a rinunciare ai suoi diritti civili david grieco grande giornalista di arte e grande narratore affabulatore e amico di pasolini mi ha mi ha raccontato che pasolini vide ultimo tango a parigi bertolucci nasce come aiuto regista di pasolini e rimase inorridito questo film borghese da quel momento non si parlarono più perché effettivamente se uno vede ultimo tango a parigi quindi film stile godardiano è molto borghese perché contro la famiglia ma ma comunque con una confezione non tutto si può dire tranne che bertolucci sia una persona anarchica insomma no non lo è era molto borghese in questo e quindi pasolini ci vide proprio di diavolo in quel film cioè ci credo che reagì così poi è bello quando si parla di censura alternare il cosiddetto alto e basso che poi a volte non è basso ma usa altri registri stilistici soprattutto il comico quello becero però un regista che effettivamente era era proprio pungente e cattivo ma e che se ne fregava del di entrare nell'imperio dei grandi autori era lucio fulci lui che cosa fa lui gira un film all'onorevole piacciono le donne all'inizio degli anni 70 con lando buzzanca come protagonista è un film massacrato dai tagli di censura perché racconta le vicende erotico parlamentari di un onorevole il quale nella realtà però fa esatto contrario del titolo del film e quindi quel film fu un massacrato dalla furono lasciati tutti i nudi statuari di laurea antonelli veramente era una fine del mondo ma il film abbia un sacco di problemi perché poi questo onorevole era in combutta con la mafia e con il vaticano cioè lucio fucci proprio da questo punto di vista sa mancare niente esattamente come un altro regista di film di genere fernando di leo il quale nei suoi film la mala ordina il boss eccetera per la prima volta nei dialoghi fa dire a dei commissari che la dc è legata alla mafia con un elenco di persone pure questo vi va riconosciuto accidenti non traspetti da una roba del genere cosa che neanche ha fatto ha mai fatto francesco rosi no perché poi alla fine erano film di genere ne andavano nelle sale di seconda terza visione io oddio non dovrei confermartela sta roba c'è effettivamente quella sequenza con i nomi tra l'altro un commissario fu censurata non sono in grado di confermartelo al cento per cento però io quelle le versioni che ho viste non è che sono stato ripristinate da erano quelle quindi però la distribuzione quello è una forma di censura perché se un film poi viene un altro film uno dei più film più coraggiosi dell'intera sala del cinema italiano e faccia di spia di giuseppe ferrara uscito nel 54 dove parla apertamente di tutti i magheggi delle operazioni segrete coperte nel mondo della cia compresa addirittura piazza fontana e quindi faccia di spia giuseppe ferrara gli ha dato atto di aver fatto questo film e lui il suo aiuto regista che ancora evidente mi ha raccontato che però il film uscì in una sala romana equivoca dove venivano proiettati film di serie b e stette poco tempo cioè quello quindi è una forma di film uscì però non ebbe prima di faccia di spia ovviamente c'è un altro film importante che è rimasto coraggioso autenticamente coraggioso che è rimasto una storia del cinema italiano indagini su un cittadino di sopra di ogni sospetto l'idea venne a a elio petri e lo sceneggiatore ugo pirro ex saluino reo confesso ma solo negli anni 90 lui lo disse per la prima volta uno che fa indagini su un cittadino quindi più di sinistra così lo disse molti anni dopo perché ovviamente i tempi non erano maturi e disse io cambiai completamente dopo aver visto le torture inflitte dai nazi fascisti ai partigiani fu per me qualcosa di intollerabile e cambiai cambiare orientamento lui è lo sceneggiatore di questo film importante che prese spunto anche dal successo di z di costa gavras che in italia bene 69 un grandissimo successo e quindi gli venne a loro quest'idea meravigliosa finanziato dalla contessa marina cicogna di questo film sulla figura di questo capo della polizia politica che ha problemi anche con di tipo psicoanalitico e sessuale e con il risultato superbo che sappiamo anche grazie alla musica di del maestro egno morricone e però si racconta che perché anche lì mi sono chiesto caspita ma un film in generale veramente uscito in italia tra l'altro poco tempo dopo la strage di piazza fontana chi mi esce all'inizio degli anni settanta esattamente due mesi dopo la dicembre del 69 strada di piazza fontana e vince anche l'oscar addirittura come il film straniero effettivamente è una cosa che lascia sbalordini perché petri era assolutamente associato come alla sinistra al partito comunista però lì i meriti artistici diciamo che avevano convinto tutti compresa l'academy e no e approfondì un po la rassegna stampa dell'epoca e ovviamente volontà era uno che veniva convocato in questura un giorno sì un giorno no perché partecipava operazioni anche di soccorso rosso e lì il film poteva uscire grazie al diciamo alla al benestare alla benedizione di un questore e di un magistrato che videro il film e dissero che era era un bel film e lasciarono passare perché forse si resero conto che se l'avessero censurato gli avrebbero procurato ulteriore pubblicità però intanto l'avrebbero azzoppato grazie al sequestro perché tutti i film praticamente contenuti di questo tipo venivano sempre denunciati dal cittadino esemplare perché c'è anche questo vi consiglio un libro bellissimo dell'avvocato dello spettacolo italiano massaro gianni massaro dove raccoglie tutte le denunce dei cittadini anonimi esemplari che che si inventano soprattutto quelli film vabbè con contenuti sessuali ma anche indagini su un cittadino una vergogna del pubblico italiano vedere queste robe qua e quindi il film passò anni 70 e ma vi posso citare però sempre per indagini su un cittadino del 69 passiamo al 75 quando c'è un mancato film di contenuto politico di cui mi sono occupato e che riguarda sempre la coppia di sceneggiatori famosa age scarpelli i quali notarono come tanti nell'ambiente dello spettacolo italiano la somiglianza straordinaria ad alberto sordi con harry kissinger l'uomo più potente d'america dopo dopo nixon segretario di stato di nixon poi degli altri residenti che lo hanno succeduto e che effettivamente a vederli messi insieme in fotografia sono nati nello stesso momento e insomma nasce come gioco questa sceneggiatura scritta da sergio amidei age scarpelli su il mio caro amico harry dove sordi interpreta uno steward ebreo dell'alitalia che viene reclutato dalla cia come uno dei tanti sosi ufficiali nel mondo di kissinger il film è una farsa non è satira politica ma più sconfina più nella farsa un po nello stile di vogliamo i colonnelli di mario di qualche anno prima che non ha che prendeva in giro il tentativo di golpe del junio valerio borghese che non ebbe un grande successo e il film poi ha come protagonista una giornalista italiana che che un po rifà il verso a oriana fallaci e il film viene stoppato a un certo punto cioè sordi fa i prodini fotografici veramente una goccia d'acqua angeletti ed emichieri due produttori lo annunciano a carne in pompa meagna stiamo per girare il film viene stoppato nel 77 più o meno e non si sa la motivazione anni dopo age in un suo scritto dice che probabilmente c'è stata una volontà più atlantica che ha evitato l'incidente diplomatico perché il comico più famoso d'italia non poteva prendere in giro un personaggio così importante che aveva in italia poi due amici e che erano amici anche di alberto sordi julio andreotti e gianni agnelli e testimoni di questa faccenda sono gina lorobrigida e furio colombo che conoscevano a loro volta harry kissinger i quali mi hanno confermato che probabilmente fu una cosa di lesa maestà cioè non poteva un comico prendere in giro una figura così importante dove però si parlava anche delle ingerenze ecco adesso parliamo delle cose serie si kissinger che tra l'altro tanti auguri adesso appena compiuto 100 anni e questo signore altro che ha interferito nella politica italiana perché ci sono dei documenti straordinari delle sue battaglie contro l'euro comunismo di berlinguer dove a metà anni 70 lui diventa proprio altro che aggressivo diventa proprio violento nei suoi ultimatum contro la politica italiana cioè mandando dei diktat italiani e quindi il clima era questo e poi soprattutto c'è un precedente erano già stati usciti due scandali di finanziamenti occulti della cia ai politici italiani prima dello scandalo lockhead questo ci fu una commissione americana commissione pike che tra l'altro ancora i nomi oggi sono secretati uscirono solo due nomi di questa dei politici e dei faccendieri italiani pagati in tangenti dalla cia per ovviamente mantenere lo status quo democristiano in funzione anti comunista e questi due nomi che uscirono furono quelli di michele sindona e del generale vito miceli tutti i nomi dei dei politici democristiani pagati con tangenti degli americani non uscirono e a tutt'oggi è ancora segretato questo questo elenco qua e quindi figuriamoci scherzare su un personaggio del genere e ma gli anni 80 giusto adesso siamo abbiamo parlato di tante robe abbiamo parlato di soprattutto di politica perché sul sesso sono centinaia i film censurati per scene di sesso ma adesso fa colore insomma abbiamo citato ultimo tango a parigi religione anni 80 gli anni 80 si inaugurano con il sequestro per binipendio della religione cattolica del papocchio di renzo arbore detto oggi fa ridere perché il film ovviamente è una farsa non prende in giro il il dogma cattolico non è l'acqua di rose però il film è dell'ottanta nel 79 esce brian di nazareth dei monti python che in italia verrà distribuito nel 93 e quello è un film autenticamente satirico sulla sulla vita di gesù questo per farvi capire quanto questo tema in italia veramente è di quelli rimasto ancora tabù per certi versi perché anche in televisione la satira religiosa è stata Dario Foa l'ha fatto con mistero buffo però si riferiva la narrazione di mistero buffo al medioevo magari se avesse citato giovanni paolo secondo credo che non gliela avrebbero lasciato fare il rai e il cinema italiano negli anni 80 vabbè diventa una roba muore di fatto grazie anche alla concorrenza sfrenata della televisione e campa di opere modeste tranne vabbè ovviamente i soliti grandi registi rimasti in circolazione sergio leone bertolucci ma sul fatto della censura effettivamente di incidenti dovuti a film coraggiosi negli anni 80 non me ne vengono in mente bisogna spostarsi ancora molti anni dopo gli anni 90 dove addirittura c'è il film uno degli ultimi film censurati quello totò che disse due volte e lo zio di brooklyn di cipri e maresco che di fatto poi costringono a rifare la legge sulla censura dico questo perché questo avviene alla fine degli anni 90 e paolo benvenuti sempre che buon amico di enzo cicchino ho trovato un suo scritto interessante dove sempre a proposito della storia parallela economico politico militare del cinema italiano lui ricorda che rinnovò un accordo con il capo dei produttori cinematografici americani jack valenti e che era potentissimo nel suo ufficio a washington lui dettava legge a livello globale attraverso il soft power del cinema americano e lui rinnovò per 20 anni le quote destinate alle major americane in fatto di distribuzione nelle sale cioè mi spiego noi siamo usciti sconfitti vinti dalla guerra e quindi dovevamo pagare le clausole tra queste clausole c'era anche questa di 50 anni dove si metteva nero su bianco il predominio delle major americane nella distribuzione dei film in italia e questa roba è durata appunto fino al 99 ed è stata rinnovata poi per altri vent'anni ma non eravamo in guerra diciamo bisogna vedere quale fu il contesto diciamo sul rinnovo di queste ci furono l'avvento dei multiplex ci fu e a tutt'oggi nel senso che manca un diritto di reciprocità cioè gli americani esportano non è che ce l'ha obbligato il medico ci abbiamo la pistola puntata noi accogliamo una media di più di 200 film americani ogni anno ma non è che noi esportiamo negli stati uniti 200 film dovrebbe essere un diritto di reciprocità loro non hanno il doppiaggio e tutte le menade varie ma insomma sono adesso discorsi superati però sono sempre discorsi economici perché tant'è che alcuni collegano anche gli oscar la pletora di oscar vinti dagli italiani a una sorta di contentino dovuto al fatto che noi abbiamo dato e continuiamo a dare un sacco di milioni di euro alle major americane acquistando monnezza per monnezza intendo secondo la logica del pacchetto cioè tu compri il film il titolo di punta ma poi ti devi prendere anche gli scarti cioè tutti quei film di serie b per arrivare fino alla zeta e che ingolfano tutti i paninsesti televisivi a partire dagli anni 80 questa è stata la logica anche di berlusconi che di uno dei motivi del successo di berlusconi che compravano un sacco di film e li trasmetteva a tutte le ore e con imbottiti di pubblicità naturalmente se dovessi chiudere un po sulla censura citiamo due episodi sky ha trasmesso credo cinque sei anni fa per la prima volta il leone del deserto film sulla sugli eccidi compiuti dall'esercito italiano in libia negli anni venti eccidi che poi culminarono nella nella esecuzione del leader libico omar muktar questo film fu finanziato fu realizzato nel 1980 ed è stato censurato perché non fu distribuito in italia sky lo ha trasmesso appunto solo pochi anni fa ed è un esempio sul fatto che certe robe ancora toccano nervi scoperti non se ne può parlare e questa è la censura classica poi c'è la censura di mercato se dovessi citare intanto due esempi di film coraggiosi sicuramente sono via di daniele vicari di cario vicari sulla su quello che è avvenuto al g8 di genova nel 2001 e sulla mia pelle credo sul caso cucchi perché è un film tra l'altro che è stato realizzato a processo ancora in corso e che poi l'esito nel processo ha visto come colpevoli proprio i i carabinieri che hanno selvaggiamente picchiato fino alla morte cucchi e questi sono due esempi assolutamente validi film di impegno civile e che fanno che però rimangono appunto eccezioni perché se devo fare un esempio negativo che veramente mi ha colpito proprio sul livello di libertà di espressioni e di calcolo sotto banco fatto dai produttori e la scuola cattolica sul delitto del circeo uscito qualche anno fa quindi un film girato adesso è ambientato nel 75 dove programmaticamente si è scelto di evitare tutti i riferimenti politici cioè sembra a vederlo un dramma adolescenziale dove vedi questi qua i ragazzi ricchi che poi arrivano a stuprare queste due povere ragazze ma manca nel film completamente tutto il discorso del fatto che erano ovviamente di orbita missina erano stati cacciati dai missini anche perché troppo violenti e tutto il discorso sociale sul fatto che loro la con la santi e la lopez erano povere borgatare quindi c'era il disprezzo e quindi fare un film del genere completamente come dire in atmosfera quasi ovattata a me ha colpito perché è un caso di censura di autocensura di mercato poi film ovviamente tra l'altro era stata abolita da poco la legge sulla censura ma il film poi curiosamente viene vietato ai minori di 14 anni fortunatamente la violenza viene lasciata fuori campo però è un film che invece avrebbero dovuto vedere proprio gli adolescenti e invece viene di nuovo sottoposto a un diritto di 14 anni un po' fuori dal tempo e quindi questo è un esempio di come funziona oggi la censura cioè quindi in funzione di autocensura per ragioni di mercato cioè tu fai un film che poi appunto chi lo dovrebbe vedere ma togli tutti i riferimenti politici davvero l'ho trovato un unicum e ce ne sono tanti altri comunque non è l'unico quindi non è un unicum insomma e per arrivare ad oggi appunto dove in italia si fanno comunque si continuano a fare 200 film l'anno di cui nelle sale se finiscono solamente forse 20 film e voi mi chiederete tutti gli altri a e quindi qui andiamo sfocciamo nel codice penale insomma evitiamo di parlare ecco ma la censura oggi nello stato di diritto italiano come strutturata che regola no c'è ancora una franceschini ha abolito di fatto la censura relegandola a ai produttori che si sono loro a a dover confezionare il prodotto secondo i limiti del codice penale e della libertà di di espressione quindi una sorta di autocontrollo tuttavia è rimasta ancora una una commissione che verifica e che controlla e che è composta dal solito sociologo psicologo eccetera e quant'altro quindi in realtà non è che è stata spazzata completamente via sempre una forma di all'italiana a metà e metà perché l'organismo l'autotutela è in vigore in altri paesi da noi la commissione è sempre un residuo di quelle robe da min cool pop che sono durate tantissimo negli anni e che hanno prodotto obrobi perché poi in tutto questo racconto che vi ho fatto ovviamente non ho citato i registi stranieri che ha riguardato solo gli italiani mi viene in mente che parallelamente a pasolini gli anni 60 poi c'era luis bunuel tutti i film di bunuel hanno hanno subito pesanti tagli e per arrivare poi ad esempio mi ricordo anche interessante pure la censura l'altra sottogenere di censura legata alle locandine manifesti amen di costa gavras dove c'è la croce che si trasforma in sbastica disegnata da olivero toscani quella non passò fu fatta un'altra versione della locandina per arrivare ad esempio alla battaglia di algeri di gillo ponte corvo dove c'è il l'algerino resistente che che tiene una bandiera francese che nella locandina viene occultata da una serie di fotogrammi quella era una roba che figuriamoci il film infatti ebbe un sacco di problemi non fu mai distribuito in francia questi sono due esempi si anche su sul film di miloche forman su larry flint che era crocifisso sulla all'altezza del del pube di una donna anche quella ebbe problemi come locandina quindi no certe robe ancora oggi possono dar fastidio effettivamente nonostante la saturazione di offerte di contenuti e bene grazie luca per questa magica esposizione grazie a te grazie a tutti